Capitolo 12. Ganimede mi rabbocca la bibita. Dopodiché passai tre giorni senza interferenze soprannaturali. Wow, che lusso! Mi spremetti le meningi sui compiti, mi incontrai con Grover e Annabeth ogni pomeriggio per un frappè o un film, o semplicemente per passeggiare a Central Park. Sapete che vi dico? Fu davvero bello. Il giovedì affrontai il primo allenamento di nuoto e riuscì a fare colpo, ma non troppo. Non provocai ondate di stupore e non feci cose strane. Quasi mi dimenticai che stava per arrivare il fine settimana e quindi il mercato agricolo fino all'ora di pranzo del venerdì. L'Alternative High School è un campus da cui durante il giorno non si può uscire senza permesso scritto. Tutti dovrebbero mangiare insieme in mensa. Ovviamente molti del quarto anno all'ora di pranzo se la filano, ma io me ne rimasi buono perché non volevo rischiare di essere cacciato già all'inizio dell'anno. È una scuola piccola, perciò notare gli assenti è abbastanza facile. Ero seduto per conto mio a gustarmi un sandwich al burro di arachidi e banana, me l'ero fatto io, una delle mie ricette speciali, e a cercare di leggere brevi storie su un tizio a cui piaceva aprire lattine, non ho idea del perché, quando sopra di me si profilò una sagoma che disse, tieni un rabbocco. Ganymede versò qualcosa da una grande brocca di vetro nella lattina di acqua tonica, che avevo bevuto solo a metà. Lo fece con la massima concentrazione e precisione, senza rovesciarne neanche una goccia, ma il liquido non era senz'altro lo stesso della lattina. Grazie, vi ascicai con qualche difficoltà avendo la bocca piena di burro di arachidi. Prego. Il dio fece un cenno compito della testa, come se fossimo due ambasciatori stranieri che si erano appena scambiati dei doni. Vorrei un aggiornamento sulla tua missione. Scusa, torno subito. Ebbi il tempo di finire il panino mentre Ganymede girava per la mensa, rabboccando le bevande degli studenti senza chiedere il permesso. Alcuni ragazzi lo guardarono divertiti, ma la maggior parte non se ne accorse nemmeno. Strano, visto che indossava un chitone greco, sandali alla schiava e poco altro. Suppongo dipendesse dalla foschia, che confonde le percezioni dei mortali, o forse gli studenti pensarono semplicemente che stesse facendo un progetto di teatro. Tornò al tavolo e si sedette di fronte a me. Allora, che cosa servi? Chiesi. Non stai trasformando tutti gli studenti in immortali, vero? Sospirò. Certo che no, Percy Jackson. Te l'ho detto, è il calice che possiede la magia. Quindi non è nettare quello nella brocca? Chiesi ancora. Perché i mortali vengono ridotti in cenere se lo bevono. Cosa ti fa pensare che sia nettare? Beh, è azzurro e brilla. Ganimede guardò la brocca con le sopracciglia aggrottate. Già, hai ragione. No, è semplicemente la bevanda olimpica standard numero cinque. Ricarica e rafforza e sa di quello che vuoi. Non rende immortale nessuno, né provoca autocombustioni. Assaggia. Mi chiesi cosa fosse successo alle bevande olimpiche da uno a quattro, ma Ganimede mi stava guardando fisso e offenderlo non mi avrebbe aiutato a ottenere la lettera di presentazione. Bevì un sorso. Sapeva di normale acqua tonica, la stessa che avevo bevuto poco prima, solo più saporita e frizzante. In giro per la mensa nessuno sembrava bruciare, né mandare bagliori. Ottima, davvero? Grazie, dissi. Ganimede fece spallucce. Idratarsi è importante. Allora, a proposito del mio calice, lo aggiornai. Quando ebbi finito, aggrottò le sopracciglia maestosamente scolpite. Avevo la sensazione che non fosse contento, come se potesse decidere di spuntare scarsamente soddisfatto invece di estremamente soddisfatto sul mio modulo di presentazione. E tutti fidi di quello che ha detto Ebe? Mi domandò. Non mi... mi bloccai. Stavo per dire non mi fido mai di un dio, ma nessun immortale l'avrebbe presa bene. Non posso esserne certo al cento per cento, però non credo che sia stata Ebe a rubare la tua coppa. E se decidesse di dirlo a tutti? Non lo farà, dichiarai. Almeno non fino al prossimo banchetto. Ha detto che preferisce vederti perdere la faccia davanti a tutti gli dèi. Non aggiunsi ed essere ridotto in cenere da Zeus. L'espressione di Ganymede si oscurò fino a quello che immaginai fosse il colore della bevanda olimpica numero due. Tipico di Ebe. E questo mercato del cavolo... mercato agricolo... questo mercato agricolo è domani. Esatto. Il tuo piano? Parlare con Iride. Trovare la tua coppa? Non farmi trasformare in arcobaleno. Lui annui. Assolutamente sensato. Ma se non ce l'ha lei, il calice, ce ne preoccuperemo domani. Ganymede si agitò sulla sedia. Abbi pazienza. Mi capita raramente di assegnare imprese a qualche semidio. Questo è il momento in cui ti minaccio di morte se fallisci? No, risposi. Quello viene dopo. D'accordo. Ma non deludermi, Percy Jackson. La mia reputazione dipende da questo. E ovviamente anche la tua carriera universitaria. Poi si alzò e se ne andò nel suo chitone a versare altro divino beveraggio. Riuscì ad arrivare a fine giornata. Devo ammettere che mi sentivo rinfrescato e idratato. Quella sera, dopo cena, mi sedetti sul letto a parlare con Annabeth. Non era fisicamente lì, era dall'altra parte della città, nel dormitorio della sua scuola, ma ci tenevamo in contatto grazie alla modernissima tecnologia dei messaggi iride. I semidei non usano i cellulari perché attirano i mostri. Non ho mai capito bene il motivo. È così in linea con la nostra vita che l'ho sempre accettato, dandolo per scontato. Il modo più rapido per individuare un semidio è porgergli un telefono cellulare. Se ha meno di 18 anni e non ha idea di cosa farsene, probabilmente è un semidio. E quando un mostro si presenta e se lo mangia, allora ne sei sicuro al cento per cento. Invece di un cellulare, io avevo una torcia, un umidificatore e una ciotola di dracme d'oro. Si punta il fascio di luce nel vapore acqueo, così da generare un arcobaleno. Ci lanci dentro una moneta, mormori una supplica e voilà. Ecco una scintillante Annabeth olografica seduta accanto a te. Lei aveva un sistema analogo dalla sua parte, ma potevamo parlare così solo quando la sua compagna di stanza non c'era. Annabeth le aveva detto che l'umidificatore serviva per l'allergia. Quello che non le aveva detto è che si trattava di un'allergia ai cellulari. Era sdraiata sul letto, appoggiata a un gomito con davanti una pila di libri di architettura. Le goccioline di vapore tra noi brillavano come fuochi d'artificio. Allora, per domani ho un piano, esordì. Non mi stupì, Annabeth aveva sempre un piano. Era una caratteristica che aveva ereditato da Athena, ma lei l'aveva portata a un livello addirittura superiore. E io non me ne sono mai lamentato. Se lei non fosse un'ottima pianificatrice, oggi sarei ancora lì ad annaspare su cosa fare l'anno prossimo e probabilmente avrei già rinunciato e trovato lavoro da Monster Donut. Sentiamolo, la invitai. Ecco, infilò il pugnale nel libro di testo per non perdere il segno. Giuro che non so come la sua coinquilina prendesse quella faccenda del coltello. Pensavo che se troviamo qualcuno che ci presenta a Iride magari è più facile, ma io la conosco già. Annabeth sollevò un sopracciglio. Sapevo cosa voleva dire. Aver già incontrato un dio in passato non era garanzia che si sarebbe ricordato di te o ti avrebbe trattato bene. Ho sentito divinità brontolare che noi mortali per loro siamo praticamente tutti uguali, come sardine. Chi hai in mente? Non abbiamo molte opzioni, ammise Annabeth. Pensavo a qualche suo figlio. Baccia a casa nel Minnesota, passai mentalmente in rassegna la lista dei semidei del campo mezzosangue. E al momento non c'è nessuno che stia tutto l'anno nella casa di Iride. No, concordò Annabeth, ma ha una figlia che vive in zona, a Soho. Mi si annodò lo stomaco e la bevanda numero 5 di Ganimede cominciò a tornarmi su. Non starai dicendo sul serio. Ha già accettato di incontrarci al mercato agricolo. Mi chiesi come Annabeth ci fosse riuscita. I favori devono essere ricambiati. Denaro. Nome al primo genito. Qualcosa. Ma Anna Spai in cerca di un'idea qualsiasi che potesse distoglierla da quel progetto. La maggior parte delle imprese non dovrebbe essere composta da tre persone. La quarta non porterebbe sfortuna. Non si unirà all'impresa. Ci presenterà sua madre, punto. E speriamo di convincere Iride a essere clemente quando le diremo, beh, che sospettiamo sia una ladra di coppe. Rabbrividì. Oppure potrebbe peggiorare le cose. Ti ricordi cos'è successo al campo all'ultimo falò? Annabeth si mise a ridere. In realtà per me è stato divertente. Calma, ti testa d'alghe. Ho tutto sotto controllo. Mmm. Non mi fare mmm. Guardò dietro di sé. Sta arrivando la mia compagna a distanza. Devo andare. Ti amo. Ti amo anch'io. Non amo altrettanto il tuo piano, però. Finisci i compiti. Sì, signora. Annabeth annui soddisfatta e mi soffiò un bacio. Il collegamento si dissipò in una nuvola di goccioline disordinate. Guardai la pila dei compiti per il fine settimana e gemetti. Un altro tema. Questa volta su quel tizio a cui piaceva aprire lattine. Più matematica, scienze e due capitoli di storia. E l'indomani avremmo dovuto affrontare Iride e sua figlia.